gli occhi, ti strappavano le unghie. Nel 1946 a Torino avevamo 60 mila iscritti, tengono tutti famiglia, mi diceva, l'aveva già capito, è un po' la storia dell'Italia però, tutti fascisti, tutti antifascisti, tutti con Berlusconi, tutti contro Berlusconi, tutti con Renzi, tutti contro Renzi, tutti con Salvini, tutti contro Salvini, forse ritorno, questo nostro paese non ha mai fatto una rivoluzione e quindi è chiaro che c'è un carattere politico quasi, però non voglio entrare in un tratto sociologico degli italiani, però il Partito Comunista poco alla volta si è smembrato dal punto di vista teorico e mancavano i fondamentali, mancavano anche le persone, mancavano le persone fisiche. Io credo, ho 60 anni, sono nato in un quartiere molto povero di Torino, mio padre faceva l'operario alla Fiat Mirafiori e sono rimasto sempre comunista, gli altri si sono defilati, fino a 30 anni fa un italiano su tre votava comunista, forse non lo era, però era così. Penso adesso a questi signori, penso al signor Pisapia, il signor Pisapia è stato candidato con me nel mio partito, rifondazione comunista, si è fatto candidare, si è fatto eleggere al Parlamento con quel simbolo, poi si è fatto eleggere il sindaco di Milano con una serie di liste, tra cui anche la falce martello, il partito della rifondazione comunista e poi cosa fa? Al Parlamento europeo accetta il totalitarismo del pensiero unico europeo e vota la mozione di cooperazione tra comunismo e nazismo, ma come? Quando avevi 50 anni ti sei fatto eleggere al Parlamento con quel simbolo, non vedevi l'equiparazione tra comunismo e nazismo? Ti sei fatto eleggere il sindaco Milano a quasi 60 anni e non vedevi l'equiparazione, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una classe politica dove i fondamentali, la politica vera, la passione non c'è più e c'è un tradimento, uno come occhetto è un traditore, non ho nessun problema a dirlo e i traditori come sempre, come insegna la storia, vengono premiati. A proposito di gente che ha cambiato idea con una certa frequenza, stupisce la pubblica opinione e gli osservatori notare come tanta classe dirigente cresciuta in botteghe oscure si sia trasformata in pochissimo tempo in neoliberista convinto, cioè gli stessi che negli anni 60, 70 criticavano il modello di economia mista, il modello keynesiano dell'intervento statale, unito alla difesa dei valori del libero mercato, oggi si indignano persino se qualcuno propone di nazionalizzare l'ILVA, un settore strategico per l'Italia e vengono tutti da lì, vengono tutti da quel bacino. Perché i comunisti di allora che ritenevano Keynes un servo della borghesia, oggi invece sono i più feroci nemici di chi rispolvera quelle idee keynesiane e li attaccano da destra come se fossero i più zelanti servitori del capitale, c'è qualcosa di paradossale e di tragico in questa metamorfosi? No, 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 perché quando c'è il pentimento devi assumere completamente la dottrina del nemico e quindi questi probabilmente non erano comunisti. Abbiamo sentito gente… I soldati, diciamocelo chiaro chiaro, secondo lei sono stati assoldati. Non lo so, non lo so, non posso dirlo, però io so per certo, perché l'abbiamo sentito dire, il segretario della più grande federazione del Partito Comunista, quella di Torino, Piero Fassino, ha scritto di non essere mai stato comunista. Mi pare fosse Veltroni per la verità. Veltroni, no, no, anche Veltroni, Veltroni era direttore dell'Unità, organo del Partito Comunista, ha detto di non essere mai stato comunista anche lui, come dire, mentivano allora? E la figlia dei convertiti! Mentono adesso? Forse mentono sempre! Questa è la mia valutazione. Le faccio un'ultima domanda e poi la lascio andare perché… dal punto di vista teorico, davvero, dal punto di vista teorico, le cose hanno cominciato a mutare già dal dopoguerra, la composizione di classe degli organismi dirigenti del Partito Comunista dell'immediato dopoguerra vede in maniera preeminente operai e lavoratori in produzione, negli anni 70 gli operai sono due o tre persone, sono quasi un fiore all'occhiello da far vedere, l'operaio di Mirafiori, l'operaio dell'Alfa Romeo, i gruppi dirigenti sono costituiti da persone che provengono dalla medio alta borghesia, questo è il primo tratto. Due, l'elemento teorico, si abbandona il marxismo-leninismo, vengono messi da parte gli uomini della resistenza, quelli che hanno rischiato e hanno dato la vita, Pietro Secchia, tutta l'area dei partigiani del Nord viene fatta fuori completamente e arrivano i nuovi rapporti intellettuali, ci sono tutti gli elementi anche di eclettismo teorico, la sinistra che adesso corre dietro a tutti i temi sui gusti sessuali, sui gusti alimentari, sulla frammentazione, già all'epoca aveva un fondamento. Ricordo che nell'ultimo Partito Comunista, mi sono iscritto nel 1980, avevo 20 anni, mi ricordo che Achille Occhetto e tutta quella genia pronunciavano la necessità di avere le sezioni tematiche, per cui dovevi stare dentro una sezione a discutere di un tema e non potevi più discutere di tutta la tematica generale che era quella del cambiamento della società. Il Partito Comunista serve a due cose, uno esistendo sposta i rapporti di forza nella società a favore dei lavoratori, ha una funzione riformistica solo nell'esistenza, perché il suo obiettivo finale è la presa del potere politico da parte dei lavoratori e di questo hanno paura tutti e per questo che la campagna enorme che è stata fatta per questi 30 anni che coincidono con la caduta del muro di Berlino ha visto il mainstream internazionale della globalizzazione scatenarsi, ci sono numeri speciali, trasmissioni speciali, nessuno dice ad esempio, sul muro di Berlino è stato detto di tutto, nessuno ha detto, ci sono poi dei dati che io sottolineo bene ricordare, la Nato è nata prima del patto di Varsavia, nessuno lo sa, Berlino Est, il muro, il famoso muro, Berlino era dentro la Germania democratica, dentro il territorio della Germania democratica e il 99% delle persone pensa che ci fosse la Germania spaccata a metà e Berlino fosse in mezzo, no no Berlino non era a 20 miglia se parlassimo dell'Italia e della Francia, era come se la Francia avesse San Marino e da lì partivano le provocazioni, provocazioni armate nei confronti della Repubblica democratica tedesca, dell'area non occidentalizzata, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando poi se arriviamo a quei tempi lì, proprio per mettere il dito nell'occhio, perché il muro di Berlino è la cosa su cui non ti lasciano replica, io chiedo quando mi dicono, ma tu preferivi i tempi del muro di Berlino? Io dico, in Italia, proviamo a parlare dell'Italia, c'era uno stipendio da un milione di lire, era un ottimo stipendio, oggi facendo certamente i calcoli diversi, con 500 Euro o con 1000 Euro muori di fame. Due, i popoli erano autonomi indipendenti, la Siria, la Libia, l'Ucraina, il Donbass, la Bolivia, potevano permettersi di essere indipendenti, i popoli dell'Africa non erano obbligati a migrazioni forzate, i leader di quei paesi erano vivi, stiamo parlando di un mondo molto diverso, c'era l'articolo 18, qualcuno dice cosa c'entra nel muro di Berlino? C'entra, perché quel modello di società influenzava anche questa società e quindi quello che accadeva di là diventava difficile e non riproporlo in forme pur diverse di qua. Oggi i margini del riformismo sono finiti, voi parlavate prima di Keynes, sono finiti, oggi ci sono solo due prospettive, o da una parte l'arricchimento di poche persone che detengono un potere maggiore degli stati, conoscono i nostri consumi, hanno il controllo su tutto, hanno il controllo sulla nostra vita, possono penso la Apple opporsi all'FBI, è più forte la Apple dell'FBI e quindi di cosa stiamo parlando? 26 persone hanno la ricchezza di metà della popolazione più povera del mondo, il mappamondo lo vedete ci sono 26 persone sopra e sotto ci sono 3 miliardi e 800 milioni di persone, questo è l'indirizzo verso cui si sta andando, l'alternativa non è Keynes, l'alternativa lo dico, è il socialismo, lavorare tutti, lavorare meno, vivere meglio, per fare questo il potere politico deve essere nelle mani di chi produce la ricchezza del paese, quindi la classe operaia e tutti i lavoratori, indipendenti, autonomi, piccoli imprenditori, piccoli agricoltori, piccoli commercianti, c'è chi vive del proprio lavoro, è il socialismo e questa è l'alternativa tra la barbarie e il socialismo, per questo motivo quando mi chiedono lei è di sinistra, le dico no, sono comunista. Rizzo, buonasera, sono Messora, buonasera, benvenuto, la lasciamo andare subito, però siccome questo è il Tg dei cittadini, andiamo a definirlo, ora leggiamo anche un po' di commenti in chat, visto che siamo in diretta, in generale molti chiedono un po' di cose, ma una è che senso ha ancora la distinzione tra lavoratori, operai, forse capitale, nel momento in cui fra qualche anno di lavoratori ne resteranno ben pochi, resteranno invece tantissimi algoritmi, ancora che se per voi ha ancora un senso la battaglia ideologica suddivisa fra quelli che vedono ancora oggi, dopo più di 100 anni, i fascisti, gli antifascisti, eccetera, se non abbia più senso invece adesso fare una battaglia anche sfruttando internet, parlando di alto e di basso e quindi realizzare una nuova internazionale che veda tutti gli oppressi, che sono quelli che lei citava, che non sono i più ricchi al mondo nel 5% cercare di recuperare posizioni nei confronti di questi pochi soggetti, in parte ha già risposto, qualcuno le chiedeva la vostra posizione sull'immigrazione, insomma qui squiglie di questo genere, cosa può rispondere? Provo a rispondere a queste due domande, la prima, la riduzione dei tempi di lavoro necessari a costruire le cose che ci circondano è un dato di fatto, le famose start up più se ne inventano e più diminuiranno i tempi per fornire o servizi o produzione di cose concrete e quindi per questo l'alternativa è davvero o arricchire pochissime persone oppure redistribuire il lavoro lavorando meno, parità di salario, lavorando tutti e vivendo meglio, ho definito questo il socialismo, dall'altra parte quando giustamente è un tema del dibattito, ma che senso ha la destra e la sinistra, il fascismo, credo che la cosiddetta democrazia borghese del capitalismo, della globalizzazione capitalistica anche oggi, possa usare a un certo punto il fascismo, il fascismo e il nazismo fanno parte di quel ceppo, quando la democrazia borghese all'inizio del secolo scorso non ce la faceva più a contenere il movimento operaio, il movimento comunista internazionale, l'unione sovietica ha prodotto il fascismo e il nazismo, quindi non sono due cose separate, quindi ha ancora un senso definire dei campi, certamente rispetto al passato questi campi sono mutati dal punto di vista quantitativo, guardiamo l'Italia, la conosciamo tutti l'Italia, c'era la classe operaia, il lavoro dipendente, 40%, rappresentato anche plasticamente dal partito comunista, c'era il ceto medio, piccoli imprenditori, piccoli professionisti, commercianti rappresentati dalla democrazia cristiana e poi c'erano i super ricchi, adesso i super ricchi sono diventati super ricchissimi, pochissimi e il 90% del popolo ha il compito di liberarsi da questa oppressione, lo chiamo processo di proletarizzazione del ceto medio e quindi c'è un ceto medio proletarizzato che unito al lavoro dipendente, alla classe operaia e ai nuovi lavori costituisce il 90% della popolazione, oggi il socialismo davvero è un'oggettività per tutti, bisogna solo operare nel fattore soggettivo ed è per questo che i media, il mainstream internazionale ha bisogno di demonizzare il socialismo e il comunismo, inventano il 5 Stelle, Podemos, Siriza, inventano di tutto, ma devono parlare male del comunismo, lo dico come battuta, ma come mai il Parlamento europeo si occupa di storia? Quando mai un Parlamento deve dare una definizione sulla storia? Eppure l'hanno fatto, perché hanno dovuto equiparare il comunismo al nazismo, perché dovevano fare questo, perché hanno timore che quel meccanismo, visto che ha funzionato una volta, possa di nuovo tornare e prima o poi torneremo. Bene Rizzo, le faccio un'ultima domanda, le chiedo di rispondere molto velocemente, se può, perché noi tra poco sentiremo un politologo molto influente, non solo nel suo paese, la Russia, ma un po' dappertutto, anche molto criticato dai suoi non pochi nemici, che è Dugin. Dugin ha teorizzato la cosiddetta quarta teoria politica, cioè il superamento delle dottrine maggioritarie del Novecento, che lui inserisce tutte all'interno di un unico calderone totalitario, cioè lui parla di tre totalitarismi, il totalitarismo comunista sovietico, il totalitarismo nazista fascista e oggi, dice, il principale nemico, perché vivo, perché più pericoloso, perché attuale, è il totalitarismo liberale, ma noi dobbiamo andare verso la costruzione di una quarta teoria politica, che è l'unica soluzione che può mettere in discussione gli equilibri esistenti. Rispolverando invece relitti del passato, come il comunismo storico e l'esperienza fascista e nazista, noi facciamo il gioco dei padroni di oggi. Lei cosa risponde a questa analisi? In parte ho già risposto, il fascismo dal punto di vista, e anche il nazismo dal punto di vista storico, concreto, erano società dove l'economia restava in mano ai privati. Mussolini nasce socialista, ma la prima cosa che fa quando va al potere sono i patti lateranensi con il Vaticano e l'accordo stretto con gli agrari per sconfiggere il movimento contadino nella zona della Padagna, della Valle Padana. Hitler prende il potere e poi riceve i finanziamenti da Krupp, dai grandi industriali. C'è addirittura un aneddoto che potete trovare su un libro di William Shearer, racconta di una mozione, quando a Reichstag c'erano ancora i comunisti e i nazisti, c'erano i due partiti, c'erano tutti i partiti, una mozione in cui il partito nazista chiede l'espropriazione e la nazionalizzazione delle grandi banche. Hitler se ne accorge, blocca quella mozione, il partito comunista la prende, non cambia una virgola e la presenta. Chiaramente i nazisti non la votano, perché Hitler prendeva i soldi dalle grandi banche. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'unico strumento che ha saputo sconfiggere la mondializzazione capitalistica, il mercato a 800-900 anni ed è stato sconfitto non dagli anarchici, bellissima cosa, non dai buddhisti, non dai trotschisti, ma dai partiti comunisti di matrice leninista e successo può ancora succedere. Grazie Inizio, grazie, la ringrazio, starei molto ad ascoltarla e mi auguro che presto possa passare dallo studio di Milano, così facciamo una puntata più approfondita. Volentieri. Grazie, allora mentre io chiedo ai nostri ospiti Quezel e Carraro, che li vedo lì pronti in pole position, se possono aspettarci ancora 7-8 minuti, parliamo un attimo di istruzione, we don't need no education, sembra che allo Stato, Francesco, piacciono i Pink Floyd, perché prendono la scuola, la svuotano, prendono la cultura che è un elemento di consapevolezza sociale e la degradano e quindi succedono le cose che adesso possiamo vedere nella copertina di Devorabilli. Quando c'è da fare propaganda a qualche nuova proposta politica, si pensa subito a mettere mano ai programmi scolastici, sempre piegati a come tira il vento. Una scuola che è stata tra le migliori del mondo e oggi continuamente rimaneggiata solo per fare titoli sui giornali. E' il caso delle ultime novità dal ministro Fioramonti. Per ottemperare all'ondata mondiale Greta e clima, eccolo proporre la fisica e la matematica in chiave sostenibile, qualsiasi cosa significhi. E la geografia? Qualcuno l'aveva eliminata e ora torna, ma in chiave climatica e pazienza se non si sanno le capitali e infine arrivano 33 ore di studio dei cambiamenti climatici, magari togliendo ancora tempo all'italiano. D'altronde, secondo Fioramonti, il clima sarà al centro del modello educativo. Un investimento davvero indispensabile nel paese con il 50% del patrimonio culturale mondiale. La scuola non attira solo le attenzioni del governo, ma anche quelle dell'opposizione. Matteo Salvini, proprio stamattina, ha invocato così dal nulla l'abolizione delle scuole medie, che considera inutili, sostenendo di ispirarsi, stavolta, al modello europeo. Ma qualche sacca di resistenza a tanto interventismo esiste. E' il caso di un piccolo paesino del Parmense, Bedonia, che ha avuto il coraggio di respingere le avance di Amazon ai propri studenti, ricevendo, naturalmente, mille critiche. Bellissima questa storia che hai scovato. Deborah Billi, raccontacela meglio. Eh, praticamente... Purtroppo, negli ultimi anni, la scuola italiana desta mille appetiti. Non solo quelli politici e quelli della propaganda, che vuole usarla per veicolare i propri messaggi, ma anche quelli delle multinazionali. Per esempio, Amazon, in quest'ultimo anno, ha avviato un'iniziativa presso gli studenti italiani. Quando acquistano materiali didattici sul negozio online Amazon, la multinazionale dona il 2,5% dell'incasso alla loro scuola. E' un'elemosina dei big digitali alla scuola pubblica italiana. Hanno aderito... Anche i supermercati qua a Milano, eh. Quando inizia la scuola e tu compri un certo supermercato, ti danno un tagliandino che poi tu porti a scuola con i bimbi, e la scuola poi ci compra delle cose. Quindi forse sei ispirata ai supermercati, diciamo. Può essere, perché, insomma, però questa cosa delle elemosine un po' di tutti alla scuola italiana non è che sia bellissima. Insomma, la scuola è pubblica e dovrebbe essere pagata dallo Stato, non dai buoni sconto. Qualcuno però, diciamo, in questo quadro di questa iniziativa di Amazon, qualcuno con un animo un po' ribelle, ha considerato prioritaria la tutela della propria comunità rispetto all'obolo della multinazionale. Il sindaco del paesino per Parmense Bedonia, che ha scritto una lettera aperta ai propri cittadini, invitandoli a comprare invece presso i negozi locali. Sirene di un mondo fatato, così ha definito l'e-commerce di Amazon, il sindaco, dietro al quale, secondo la sua lettera, si nasconde sfruttamento del lavoro e distruzione del tessuto locale. La lettera ovviamente non è passata inosservata, il sindaco è stato omaggiato niente meno che da Mattia Feltri sulla stampa, che nel suo buongiorno quotidiano ha definito il suo discorso addirittura scalcinato e suicida, dandogli in sostanza del miope e retrogrado, che non ha a cuore il futuro dei suoi piccoli concittadini. Sarà vero che questo anziano sindaco sia così reazionario? Possiamo chiederlo direttamente a lui, perché abbiamo in collegamento proprio Giampaolo Serpagli, sindaco di Bedonia, credo. Buonasera, sì, ci siamo. Buonasera signor sindaco, lei non ci sta, anzitutto mi sembra giovane e non mi sembra un uomo anziano che ricorda i tempi della scuola gentile, diciamo, quanti anni ha? 38. 38, quindi non è un nativo digitale, ma quasi. Però lei non ci sta l'emosina delle multinazionali alle scuole del suo piccolo comune e questo fa di lei un retrogrado. Dobbiamo dirlo. Cosa ha da dire a sua discolpa? Ma mi è discolpa nulla, credo che Mattia Feltri non abbia ben letto la mia lettera, nel senso che partiva da un concetto molto semplice, quello di salvaguardare il tessuto del mio comune, il tessuto commerciale, imprenditoriale del mio comune, che comunque negli ultimi anni è stato messo, come credo, in tutti i capoluoghi di provincia d'Italia e soprattutto nei paesi più piccoli, è stato messo a dura prova. Pensavo che dare, lanciare un sasso in uno stagno e provare, partendo dai più piccoli, a fargli ragionare su quanto è bella la nostra comunità, se tutti partecipiamo, pensavo che fosse un'idea buona e lo penso tuttora, nonostante la contrarietà di Mattia Feltri che mi inchino al suo buongiorno, ma penso che sarebbe ottimo se lui venisse a farsi un giro nella nostra comunità e tastasse con mano qual è il tessuto commerciale del paese, che comunque negli ultimi anni, pur facendo mille iniziative, è sottoposto a dura prova, come credo in tutti i capoluoghi di provincia, come dicevo prima, e soprattutto nei piccoli centri come il nostro. Credo che i centri storici siano vivi solo se si mantiene un tessuto commerciale vivo. Lo tastiamo con mano, ripeto, in tutti i centri storici d'Italia. Quando arretra il commercio, di conseguenza lo spazio viene preso da qualche d'un altro, che siano essi a cattoni, che siano essi a cattonaggio spinto, oppure altre forme di occupazione, oppure il deserto, che sarebbe la cosa peggiore. Ecco, io ho lanciato questo sasso, partendo anche dal presupposto che Amazon non è un modello di lavoro che mi piace, non è un modello di lavoro che è nelle mie corde e quindi ho anche lanciato una critica dicendo che si ritorna allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, che forse non è mai finito, ma che comunque ritorna incessantemente se pensiamo a tutti i servizi che vediamo e noi siamo molto vicini al Lab di Piacenza e quindi sappiamo cosa succede dentro a quel modo di fare industria che utilizza Amazon. Lei è più giovane di Mattia Feltri, quindi forse, mi correga se sbaglio, ha capito qual è il punto della cosa, cioè che ai giovani forse non occorra trasmettere una adesione totale, indiscriminata, incondizionata a qualsiasi tipo di iniziativa, di novità digitale, online, eccetera, ma occorra, per favorire il loro futuro, ma occorra insegnare loro a discernere ciò che è positivo e ciò che è negativo e di questa offerta digitale, di queste novità che loro troveranno nel loro futuro. Credo che lei stia facendo in questo senso un'operazione culturale, ci ha pensato a questo? Credo che la politica deve avere anche al suo interno un senso didattico, quando smette di esserlo, ma è solo pura amministrazione, smette di fare un suo compito che credo che gli sia stato dato da millenni di persone che si sono impegnate in questo senso, dagli antichi greci ad oggi. Non mi voglio paragonare assolutamente a dei modelli del genere, ma non solo cercando di invogliare i nostri cittadini a spendere nel proprio territorio quello che è possibile spendere. Poi mi rendo conto che Amazon, come dicevo bene prima, è una sentinella molto allettante. Nella mia lettera dicevo appunto tutto in un click, tutto a casa tua, nel giro di poche ore. Però quello che si può credo che vada correttamente speso, utilizzato nel proprio territorio. La mia idea di politica, la mia idea di amministrazione è anche questa, cercare di ritrovare quel senso di comunità che i piccoli centri come il nostro hanno al loro interno e cercare di rinvigorirla, perché credo che sia uno dei principali motivi per cui la gente continua a stare in un paese di 3200 abitanti a 86 chilometri dal proprio capoluogo di provincia, in una zona montana. Insomma, però credo di non essere retorgrado. So bene come funziona il mondo, lavoro per conto mio da tanti anni e non ho avuto bisogno di raccomandazioni, come magari ha avuto bisogno l'editorialista a cui faceva riferimento lei prima. Quindi io credo, insomma, perdonatemi il sassolino che mi levo dalla scarpa, ma insomma non credo che un intervento di quel genere lì, anche se ha fatto pubblicità al mio comune, quindi lo ringrazio di cuore e lo invito nuovamente a Bedonia, non credo che sia stato un intervento intelligente o quantomeno che abbia colto nel segno il senso della mia lettra. O ho sbagliato io a scrivere o ha capito male lui. La ringrazio molto, non so se Claudio vuole farle qualche domanda, che è insomma quello un po' più esperto dello strapotere digitale. Con molto piacere ed effettivamente il problema, caro Francesco, è sotto gli occhi di tutti, è vero, le grandi multinazionali sottraggono, hanno delle offerte vantaggiosissime, delle comodità a cui pochi sanno rinunciare, ti portano le cose a casa, però poi nei fatti il lavoro, il mercato del lavoro ne soffre terribilmente, i nostri giovani stanno a casa, a cui pochi che riescono a lavorare e vengono trattate come delle scimmiette, dei topidi, del laboratorio. Forse in nome delle comodità non è questo il mondo che vogliamo costruire. Mi viene in mente il paese dei balocchi, dove tutto sembra bello, tutto sembra semplice, però tanti si trasformano poi in ciuchini. Io ho trovato davvero molto brillante la ricostruzione della collega Deborah Billi e ho trovato veramente molto coraggiose e anche sapienti le parole del sindaco di Bedonia, che oggi si è palesato come una sacca di resistenza contro il mondialismo imperante. non è solo. Allora vi daremo una medaglia di BioBlu. Grazie sindaco, grazie Serpani per essere stato con noi. Mentre noi iniziamo a parlare ai mei di sanità, un'altra delle nostre eccellenze, caro Francesco, che tutto il mondo ci invidiava, insieme alla scuola, non a caso le cose sono legate, che ultimamente ha cominciato sempre di più a funzionare malino con le varie riforme che hanno inciso anche sul modo in cui ci si relaziona fra medico privato e ammalato, chiamiamolo così paziente, che deve essere veramente paziente oggi, però tutto questo è come se avesse un obiettivo, c'è un cartello che indica che l'uscita è là in fondo. Ne parliamo con due ospiti, ma prima guardiamo la copertina che riassume un po' quello che sta succedendo. Dimostriamo un teorema. Tesi. Vogliono privatizzare la sanità pubblica. Dimostrazione. 1. Da anni il Servizio Sanitario Nazionale è sottofinanziato rispetto alle esigenze delle regioni e delle ASL. 2. Il definanziamento riduce i servizi pubblici, ma non i bisogni dei cittadini. 3. I cittadini sono così indotti a rivolgersi spintaneamente ai privati. 4. L'economia della salute è un business stratosferico e lo chiamano white economy. 5. Più lo Stato taglia o comprime i servizi sanitari, più le compagnie si fregano le mani, perché il secondo e il terzo pilastro, cioè le polizze e i fondi integrativi, sono destinati a crescere. 6. I pronto soccorso privati nascono ormai come funghi. Ed è notizia di oggi che a Bologna la Unipol, sì, un'assicurazione, apre il suo primo centro chirurgico e lancia il brand delle cliniche di Eadea. Poliambulatori con tecnologie di ultima generazione che promuovono la cultura della copertura sanitaria. Finiremo tutti come negli Stati Uniti, insomma. Per andare al pronto soccorso servirà un'assicurazione privata, chiaramente nell'interesse del cittadino. E allora, Francesco Carraro, che è già stato ospite un po' di tempo fa, con un suo libro, come si chiamava Francesco? Salute S.P.A.? Non ti sentiamo? Mi senti? Adesso sì, come si chiamava il libro? Salute S.P.A., la sanità svenduta alle assicurazioni. Ecco, allora, è vero che secondo te c'è, insomma, tutta questa serie di fatti, queste riforme, le cose che accadono, aprono il pronto soccorso privati, adesso addirittura le assicurazioni che fanno gli ospedali e che promuovono la cultura della copertura sanitaria, tutti questi segnali indicano forse che stiamo andando verso un modello sanitario privatizzato come quello negli Stati Uniti d'America? Puoi togliere tranquillamente, non so se mi vedi e mi senti, sì, mi vedi. Puoi togliere tranquillamente l'avverbio forse, Claudio. La scaletta che hai presentato all'inizio del servizio sintetizza in maniera perfetta quello che noi abbiamo definito, io e Massimo nel nostro libro, il delitto perfetto, perché è un delitto dove i mandanti sono sostanzialmente occulti, cioè tu non ti accorgi di chi veramente sta killerando la nostra sanità pubblica, ti accorgi solo di chi ne beneficia e chi ne beneficia sono le corporation del grande business assicurativo privato. Ma perché lo fanno? Perché c'è in atto da qualche anno un sistematico, secondo me, Massimo addirittura doloso, volontario, de-finanziamento della sanità pubblica. Come hai scritto prima nello schemino, perché è veramente uno schemino che lo dico in maniera brutale, a prova di scemo, nel senso che sfido chiunque a non capirlo, se tu tagli i fondi alla sanità pubblica, è ciò che è stato fatto in maniera sostanzialmente seriale da qualsiasi tipo di governo, lo ripeto, qualsiasi tipo di governo, quindi coalizioni di ogni colore, hanno compresso i fondi alla sanità pubblica, tant'è che ogni anno nella conferenza Stato-Regioni volano i coltelli. Perché? Perché le regioni fanno presente allo Stato guarda che non ce la facciamo con i fondi che ci passi. Bene, questo tipo di definanziamento seriale ovviamente va a beneficio di qualcuno, perché non è che se lo Stato smette di investire nella salute e tu cittadino smetti di aver bisogno di salute. Eh no, i cittadini continuano ad aver bisogno di cure e purtroppo non ricevendole dallo Stato in maniera adeguata, devono necessariamente farvi fronte con un altro inglesismo molto brutto, però te lo dico Claudio, si dice out of pocket. Cos'è l'out of pocket? Fuori di tasca propria. Quando si parla di Servizio Sanitario Nazionale, questo acronimo che è SSN, dobbiamo tenere presente che è una sigla un po' superata, un po' come il logo, come l'acronimo Fiat, no? È una cosa del Novecento. Perché dico questo? Perché il Servizio Sanitario non è più veramente nazionale, forse lo è al 75% anche meno. Ormai oltre il 25% del business che riguarda la salute, sapete chi lo paga? Lo pagano direttamente i cittadini, ma non con le tasse, con quello finanziamo il Servizio Sanitario Pubblico, ma con le spese che direttamente facciamo in farmaci, in esami, in tutto quello che serve per garantirci quel bene che in teoria, secondo la nostra Costituzione, l'articolo 32, dovrebbe essere un diritto indisponibile e inviolabile di tutti poveri e ricchi. Quindi, secondo l'impianto costituzionale della nostra Carta e secondo la legge del Servizio Sanitario Nazionale del 1978, noi la salute dovremmo averla sostanzialmente gratis, a prescindere dai nostri portafogli o dall'importanza dei beni di cui disponiamo. Perché? Perché tutti con la Fiscalità Generale pagano il Servizio Sanitario Nazionale. Questo a livello di principio. Nella prassi, a partire diciamo così dal 2008, ma diciamo che è un processo che è in divenire fin dall'inizio di questo secolo, nella prassi sostanzialmente un mattoncino alla volta stanno smantellando il sistema sanitario nazionale e secondo noi lo fanno i politici scientemente anche perché sono molto spesso in qualche modo collusi tra virgolette o comunque cointeressati con gli interessi delle grandi centrali del business che sta dietro a quella che tu hai chiamato white economy. Quando tu dici prima andiamo verso gli Stati Uniti d'America io ti dico che è peggio ancora andiamo verso gli Stati Uniti d'Europa e in tutti i sensi anche nel senso sanitario sai perché? È sufficiente che o tu o chiunque i tuoi ascoltatori vi connettiate al sito della Commissione Europea troverete uno di quei giochini che si chiamano Q&A domanda e risposta dove ti spiegano per esempio che cos'è il TISA il TISA è il trattato di liberalizzazione sui servizi che è in fase di avanzata negoziazione tra l'Europa e gli Stati Uniti e altri un'altra ventina di paesi nel mondo bene in questo diciamo così questionario bugiardino a prova di scemo anche quello tu trovi una domanda che è questa ma per caso il TISA comporterà la privatizzazione del sistema sanitario nazionale cioè sarà possibile arrivare a questo e la risposta è no non preoccupatevi tuttavia e va a capo qualsiasi Stato dell'Unione voglia privatizzare in tutto o in parte il proprio sistema sanitario è libero di farlo quindi sostanzialmente per quanto questa tu potrei dirmi non è una disposizione normativa giuridica secondo me vale ancora di più perché questo è il modo attraverso il quale stanno spiegando al cittadino comune all'uomo della strada verso dove stiamo andando cioè noi veniamo da una carta costituzionale che ci diceva la salute non si tocca ed è pubblica per definizione un po' come l'acqua stiamo andando verso gli Stati Uniti d'Europa dove invece è la stessa Commissione Europea quasi a incentivare gli stati se non l'incentiva comunque li abilita tranquillamente a farlo dicendo ragazzi tranquilli potete farlo in cui appunto la Commissione Europea ti dice se uno Stato vuole privatizzare in tutto o in parte ripeto in tutto o in parte la salute è libera di farlo e quindi direi come dicevano i latini mala tempola currunt e purtroppo quello della salute è un emblema secondo me della famosa vittoria del trionfo del sistema neoliberista di cui parliamo spesso per fortuna soprattutto nelle tue trasmissioni perché in verità in giro nel mainstream non è un argomento che è molto gettonato però la vittoria del neoliberismo è esemplificata proprio dalla salute perché non c'è niente di più sensibile della salute di diritto più sensibile che non la salute hanno messo le mani anche su quello perché perché si sono resi conto che la salute nostra può rendere moltissimo e quindi sta diventando in un business straordinario ok grazie grazie Francesco ci rendiamo conto insomma di come funziona esiste la Costituzione la Costituzione garantisce i diritti ma è me come dicono molti la Costituzione visto che non si può cambiare viene allora svuotata dall'interno in questo caso ok la salute è un diritto ma sapete la spesa pubblica i problemi bisogna tagliare è un diritto che funziona molto male e quindi ecco una spintarella andiamo nel privato insomma se devi aspettare sei mesi per fare un esame magari sei incinta e devi fare una visita ostetrica e te la danno dopo 4-5 mesi ma tu ce l'hai al terzo mese probabilmente ti viene voglia di tirare fuori qualche soldo se sei così fortunato da averlo e rivolgerti a un privato allora cerchiamo di fare una provocazione facciamo un attimo l'avvocato del diavolo caro Francesco perché è male avere un'assicurazione privata in fin dei conti nella fortunata ipotesi in cui uno abbia un lavoro il tuo datore di lavoro ti dà una copertura assicurativa e tu vai all'ospedale con quella tesserina e hai tutti i servizi che funzionano benissimo perché miracolosamente non esiste più la corruzione tutti sono efficienti le macchine sono nuove nessuno vuole lucrare allora cosa c'è di sbagliato in questo modello lo chiediamo a Massimo Quezel che già vedo ridere sotto i baffi Massimo ciao buonasera ciao Claudio Massimo Quezel è imprenditore consulente in infortunistica quindi è un signore che di assicurazioni specialmente in ambito sanitario se ne intende un pochino allora facci un piccolo elenco Massimo delle cose che dei problemi che potremmo avere andando incontro a un modello sanitario privatizzato per assicurazione beh innanzitutto pensiamo un attimino se una persona adesso ha un malanno una malattia va in ospedale giusto e l'ospedale senza chiedere nulla eroga le prestazioni quindi cura questa persona le compagnie invece per assicurarci pretendono da noi ovviamente uno stato di salute eccellente se non ottimo previo la dichiarazione la nostra appunto di godere di buona salute se non siamo se non siamo come si dice alti biondi e con gli occhi azzurri le compagnie non ci vogliono quindi stipulare una polizza assicurativa va bene ma bisogna comunque avere la consulenza di un esperto un agente di assicurazione esperto che ci sconsigli il giusto prodotto poi il problema vero Claudio qual è? io mi posso anche fare una polizza di tutela che mi può garantire le cure in una clinica migliore e con tempi veloci però attenzione perché il giorno che noi utilizziamo questa polizza che abbiamo comprato e pagato perché assolva alle nostre esigenze il giorno che dovesse capitarci o un grave infortunio o una grave malattia e quindi utilizziamo la polizza assicurativa in quel momento la compagnia assicurativa ha la facoltà di recedere dal contratto quindi ci paga quelle che sono le prestazioni di cui abbiamo bisogno ma successivamente ci lascia a piedi e se noi veniamo colpiti da un infortunio grave con una grave invalidità o con una grave malattia sappiate che diventate inassicurabili nessuna compagnia più assumerebbe il vostro contratto previo magari un premio magari importante ma sarebbe molto difficoltoso trovare qualcuno tradotto in soldoni perdiamo un diritto soltanto per il fatto di esercitarlo esattamente in sostanza per dirlo così in parole povere spariamo un colpo e poi abbiamo finito la cartuccera questo ci offre la sanità privata possiamo ammalarvi solo una volta capito prego scusa possiamo ammalarci solo una volta mi raccomando che non ci siano ricadute una volta e quella successiva ti arrangi ma continuare così a depotenziare a definanziare la sanità è completamente sbagliato proprio perché se pensiamo di mettere in mano alle compagnie di assicurazioni mi viene in mente l'esempio dei carrozzieri per farvi capire di che cosa stiamo parlando allora oggi le compagnie propongono le carrozzerie convenzionate le carrozzerie convenzionate sono soggette va bene a delle imposizioni da parte delle compagnie che dicono vuoi diventare il mio fiduciario bene decido io compagnia il temporio decido io il costo orario decido io di fornirti i pezzi e quindi il guadagno del carrozziere sparisce proviamo a pensare a questo proriettato nella sanità pubblica va bene quando le compagnie verranno chiamate a pagare gli ospedali o i medici o le cure o gli esami specialistici come detteranno loro le leggi a questi centri medici quindi tu ti rivolgerai però siccome pago io compagnia sono io che decido come gestire le tempistiche gli esami e soprattutto che cose erogate quindi magari Massimo tu medico che hai predisposto degli esami tu medico che hai fatto degli accertamenti ne hai fatto uno di troppo quella radiografia la vecchietta potevi anche non farla non te la pago quindi tu a questo punto se sarai pagato da una compagnia privata comincerai a regolarti autoregolarti e magari non prescriverai quegli esami che sai che avrai delle difficoltà a farti rimborsare dalla compagnia assicurativa è questo un modello possibile? Beh questo è un modello possibile non dimentichiamoci che le compagnie non sono delle onlus sono delle società per azioni e il loro core business è quello di incassare i premi ma da quello che mi così la mia esperienza mi insegna nel mio ambito lavorativo le compagnie di assicurazioni oggi hanno capito che il grande business oggi è anche il risparmio sui sinistri il pagare il meno possibile dove dove riescono e questo è veramente sbagliato quindi già lo stanno facendo nella sanità pubblica di tagliare i costi e impedire ai medici di fare degli esami degli accertamenti che sono assolutamente preventivi perché se io ho un tumore e lo curo con una cura preventiva e mi accorgo prima di averlo proprio perché il medico mi ha fatto fare degli esami specialistici costosi questo medico mi ha salvato la vita e quindi mi ha dato l'opportunità di poter vivere di più ma se io continuo i tagli mi impediscono al medico di verificare il mio stato di salute perché quell'esame costa troppo e non va fatto perché è ritenuto superfluo chiaramente quando poi mi sono ammalato probabilmente la sanità spende ancora di più per curarmi ma purarmi magari era non efficace e proviamo a pensare questo proiettato nel privato il privato ha molti più interessi nei tagli perché sono soldi che tirano fuori dalle loro calze e che a fine anno poi non si dividono come utili quindi mi pare una cosa che sia sotto gli occhi di tutti ma che non serve neanche commentare voglio dire questa è la differenza caro Francesco e cara Margherita che stai attendendo di raccontarci del Mose questa è la differenza che c'è fra avere un diritto e non averlo secondo te per chiudere Massimo potrei fare la stessa domanda a Francesco ma vi chiedo di essere super sintetici quanto tempo potrebbe passare prima che arrivi il Piscuano di turno il ministro della salute di turno a dire beh ragazzi comunque la sanità avete visto anche voi abbiamo ci siamo curati al di sopra delle nostre possibilità e quindi forse è giusto e sacrosanto aprire lo spazio anche ai privati siamo lì i tempi sono maturi o abbiamo ancora qualche anno di pronto soccorsi garantiti dalla Costituzione no no abbiamo ancora un po' di tempo però ci dobbiamo svegliare fuori perché altrimenti se passa questa linea è veramente l'inizio della fine la salute è il bene più importante che abbiamo tutti nessuno escluso se ci viene privato anche questo diritto di poterci curare senza dover guardare allo stato sociale al portafoglio veramente è la fine è la fine soprattutto mettere in mano il bene più prezioso a dei privati che ne dispongano come meglio credono questo è veramente triste e grave ma speriamo che qualcuno si svegli e che questo non accada che non accade insomma va bene vi ringrazio anche tu Massimo hai scritto un libro mi pare sul tema vuoi ricordarci come si chiama? sì ho scritto assicurazioni a delinquere racconto tutto ciò che io ho vissuto come ex liquidatore quindi quelle che sono i diktat delle compagnie a chi opera come dipendente come liquidatore conosco quelle che sono i diktat che le compagnie danno ai loro perichi ai loro consulenti ai medici legali che lavorano per loro che sono a busta paga delle compagnie che ovviamente devono adeguarsi a quelle che sono le direttive di direzione e nel mio libro racconto quella che è stata la mia esperienza lavorativa in dieci anni di rispettorato presso una grossa compagnia americana va bene assicurazione delinquere grazie Massimo Quezzel grazie a Francesco Carraro che so che continua a seguirci Margherita insomma tutto è corruttibile le opere pubbliche in Italia non fanno eccezione la corruzione con 42Z che pure esiste insomma e ultimamente si fa un gran parlare di Mose un'opera che io ricordo ai tempi del governo Berlusconi veniva vantata come un successo meraviglioso però è costata tanto è costata già 5 miliardi di euro sostanzialmente non è ancora entrata bene in funzione e adesso dà un sacco di grattacapi che ci racconta Margherita Furlan nella sua copertina video prove di apocalisse a Venezia mentre a Matera le strade si trasformano in fiumi di fango due morti gravi danni alla basilica di San Marco la qualta Venezia ha raggiunto picchi fino a un metro e novanta invadendo l'ottanta per cento della città Venezia si prepara a una nuova ondata di maltempo e Roma dichiara lo stato d'emergenza per l'antica città lagunare che sebbene sia patrimonio mondiale dell'UNESCO giace da troppo tempo abbandonata all'incuria e alla corruzione di chi gestisce la cosa pubblica indipendentemente dalle bandiere politiche a Venezia già nel XIV secolo la figura dell'avvocador aveva una funzione precisa controllare che non venissero effettuate ruberie ai danni del bene pubblico le vicende giudiziarie che hanno coinvolto in Mose la grande opera ideata per risolvere il problema dell'acqua alta a Venezia dimostrano invece il fitto intreccio che lega controllori e controllati con conseguenze nefaste per il bene comune la vicenda del Mose non ancora in funzione ma ha costato ben 5 miliardi di euro tutti tolti alla manutenzione è l'emblema di un sistema che ha corrotto il paese a tutti i livelli durante la prima e durante la seconda repubblica e che ora mette con le spalle al muro la politica spetterebbe a lei trovare l'antidoto affinché casi del genere non si ripetano più allora Margherita tu hai capito qualcosa sul Mose e su quello che sta succedendo? ho capito che è malatempo la curunt come si diceva prima quindi diciamo che il costo come hai detto tu prima è stato di 5 miliardi di euro però il giro di tangenti che c'è attorno al Mose è all'incirca di 100 milioni di euro per il momento e questo giro di tangenti ormai sta andando avanti da parecchio tempo ha coinvolto a suo tempo anche l'ex governatore del Veneto come tutti ricorderete Giancarlo Galan e anche l'ex ministro dei trasporti Altero Matteoli ma le tangenti hanno toccato sia la destra che la sinistra quindi tutte le amministrazioni comunali che si sono sviluppate si sono succedute in questi ultimi anni il problema dell'alta marea pare che ancora non si è risolto e non sappiamo neppure se sarà risolto una volta che sarà completato questo Mose la situazione per quanto sappiamo a Venezia in questo momento è ancora piuttosto critica in quanto l'acqua si sta di nuovo alzando e proprio per questo motivo non possiamo avere con noi in collegamento via Skype perché non c'è la linea adeguata l'ingegnere capo del comune di Venezia Manuel Cattani che ci avrebbe potuto raccontare qualche trama attorno al Mose al telefono mi stava appunto dicendo che la situazione è effettivamente critica perché i soldi che sono stati spesi per il Mose hanno fatto in modo che non sia più possibile spendere soldi per nessun tipo di altra gestione territoriale del comune non possiamo più parlare né di manutenzione straordinaria né di manutenzione ordinaria per cui in questo momento oltre all'acqua ci sono le immondizie che girano da tutte le parti perché non si è provveduto nonostante che si sapesse per tempo che ci sarebbe stata una seconda ondata di maltempo non si è provveduto neanche a raccogliere i detriti lasciati dalla prima ondata quindi la situazione è effettivamente particolare pare comunque che le mareggiate cosiddette siano sempre più frequenti i motivi non sono ben determinabili non di certo tutto è riferibile al al clima riscaldamento climatico sicuramente ci sono altri problemi che andrebbero sviluppati da dei tecnici in maniera in maniera degna evitando tangenti e quant'altro tipo di corruzione quindi tu avevi un ospite ma non sei riuscita sostanzialmente a metterti in contatto perché aveva una qualità internet un po' scadente così? si manca proprio l'accesso ad internet in questo momento in queste ore mentre invece la linea telefonica è presente ma in questo momento dicevano dalla regia che hai una registrazione sul telefonino di questa conversazione ho una registrazione sul telefonino si però non credo che si riesca ad ascoltare quindi non mi sono portata con me il telefonino non c'è problema mentre tu provi vedete poi se riuscite poi se non riusciamo chiudiamo il telegiornale magari ce la fate sentire domani mentre voi provate a vedere se riuscite a fare un accrocchio avvicinare il telefonino chiedo un commento Francesco Toscano hai seguito la vicenda del Mose? certo che l'ho seguito intanto sarebbe simpatico spiegare perché si chiama così perché tutti diamo per scontato perché si chiama Mose però nessuno se lo chiede in realtà fu battezzato in questo modo dall'ex ministro socialista De Micheli se te lo ricorderai che era quel socialista importante che amava passare le sue serate in discoteca era molto famoso era famoso anche per la sua capigliatura sempre perfettamente pulita sì, veniva invitato il drive-in da Gianfranco D'Angelo ed era diventato un tormentone e lui quando gli venne chiesto cosa pensavano di fare spiegò che era un'opera effettivamente lo è di alta ingegneria idraulica e disse come lo chiamiamo? beh chiamiamolo Mose Mose perché richiamava diciamo le acque bibliche e da lì poi questo Mose fu trasformato in Mose quindi noi oggi parliamo di quest'opera che nasce così insomma il nome nasce così di sicuro ci sono stati una serie di ritardi alcuni giustificati altri meno ci sono state una serie di ruberie e possiamo dire che questo caso caro Claudio è sintomatico di un aspetto che i problemi che riguardano il completamento di alcune opere infrastrutturali del paese e il giro di mazzetti intorno ad alcune grandi opere necessarie per la sicurezza del paese e in particolare di un grande patrimonio artistico come Venezia non a caso oggi tutti la grande stampa europea parla di Venezia chi in Spagna il paese ne parla in Inghilterra Guardian ne parla ne parlano tutti perché Venezia è un patrimonio di tutti ma questo dimostra che la corruzione e le lentezze burocratiche esistono in questo paese tanto al nord quanto al sud per cui quelli che sono convinti che un maggiore federalismo che dovesse dividere in due l'Italia buona e produttiva del nord da contrapporre all'Italia un po' sprecona e un po' lenta del sud forse anche alla luce di questo ultimo caso dovrebbero rifare i conti va bene Margherita non abbiamo risolto la questione tecnica per cui non saprei cosa farvi sentire vi prego comunque di provare a rilavorarci di nuovo magari domani nelle edizioni di domani riusciamo a dare degli aggiornamenti su questa questione nel frattempo prego alla regia di caricare se c'è il contributo dell'intervista che va in onda stasera come sapete non tutte le sere cercheremo di fare di più chiaramente anche compatibilmente con le risorse che ci metterete a disposizione perché questa è la televisione dei cittadini stasera alle 21 c'è un'intervista molto 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 interessante mi sono divertito molto ma soprattutto ho imparato tanto e sono convinto che anche le persone da casa faranno altrettanto un'intervista a Nicola Donti Nicola Donti è un un filosofo un formatore un formatore della classe medica vedete come tutto torna tutto si concentra sempre nello stesso punto e cerca di fare in modo che i dottori i medici sappiano come rivolgersi ai pazienti sappiano come accettare il confronto il dialogo e per estensione finisce anche per aiutare tutti noi anche chi si occupa di politica noi siamo famosi per essere il paese dei guelfi e dei ghibellini francesco nord contro sud destra contro sinistra quartiere contro quartiere piano e rotolo contro piano e rotolo qualche volta tutte le novità che si vengono a determinare in assenza della gluida forte quella che tanto affascina il popolo italiano finiscono sempre per avere dei rivoli dentro che le dividono Nicola Donti ci spiega perché e ci spiega anche come fare a superare questo problema vedete la copertina in onda trappola per topi stasera alle 21 su Bioblu bene direi che ci avviamo verso la conclusione Francesco questa era la nona puntata domani avremo la decima e compiremo due settimane di vita se ci volete sostenere una donazione si può fare seguendo il link che trovate sotto qua in descrizione e se non ricevete le notifiche scrivetevi alla newsletter sul blog presto cominceremo a inviarle da bioblu.com andate in fondo oppure scaricate la app Telegram e cercate il canale Bioblu Official e che altro aggiungere? preparate il formaggio e guardate la trappola per topi a stasera alle 21 ciao a domani